Ben il Partito Democratico nei grandi centri, in alcuni, in quelli più piccoli, si deve lavorare molto ancora. È il commento del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, dopo la tornata elettorale delle amministrative in Abruzzo. Nella sua analisi, D'Alfonso enfatizza la disfatta sul Mona del Movimento 5 Stelle del centrodestra. Dunque, è un'elezione che ci dice che siamo andati bene nelle grandi realtà urbane. Invece c'è da correggere il tiro in qualche piccola realtà. Per esempio, noi abbiamo avuto un imperatore che si è insediato a Francavilla, frutto di un lavoro riuscito tra attività amministrativa e supporto sorridente del partito. C'è un lavoro significativo riuscito a Lanciano, con una figura storica del partito, Presidente anche della provincia, che ha avuto un'importante margine di vantaggio che, secondo me, lo porterà alla vittoria. C'è il giovane Menna Vasto, dove si è trovato uno squadrone della morte, per loro che l'hanno concepita, fuori del perimetro del centrosinistra. Però siamo al ballottaggio e lui ha una grande qualità umana che, secondo me, lo porterà alla vittoria. Poi c'è il tema di Roseto, dove finalmente, dopo anni lunghi di oblio, si ricostituisce la presenza politica del PD. E il giovane avvocato di Girolamo mi pare che sia stata una carta vincente scelta a livello locale. Poi c'è l'armageddon di Sulmona, un armageddon per il centrodestra e Cinque Stelle. Praticamente lì il campo del centrosinistra ha preso tutto, quasi una percentuale orientale, prima che arrivasse la democrazia. Ci sono delle piccole realtà dove noi dobbiamo riordinare l'iniziativa politica, poiché dove si governa da vent'anni abbiamo dato luogo ad alternanza. E a livello nazionale il presidente D'Alfonso ammette che il PD deve rivedere qualcosa dentro il partito. Ma lì c'è da riseminare. Dobbiamo lavorare in maniera tale che non ci sia più una pervenza di collaborazione tra partito e istituzione, ma una è l'attività delle istituzioni e un'altra è quella del partito. Matteo Renzi, che è un grande leader e sta facendo benissimo in questi 24 mesi, deve consentire una dualità anche di vita autonoma al partito, nei territori e a livello centrale. Io personalmente lo aiuterò molto a partire dalla vicenda referendaria di ottobre, prima abbiamo parlato anche col sindaco, per scatenarci a favore del SIA referendum di ottobre.